Buongiorno, io mi chiamo Paolo Nori e registro questo breve video perché mi hanno chiesto di leggere qualcosa che abbia a che fare con il 25 aprile e con la resistenza, con la liberazione. E' una materia difficilissima sulla quale scrivere, parlare, perché c'è il rischio della retorica. E' un rischio terribile per chi lavora con le parole e mi sembra che c'è una poesia di Nino Pedretti, poeta di Sant'Arcangelo di Romagna che mi piace molto, una poesia che si titola I Partigiani che a me sembra riesca a parlare di queste cose senza nessuna retorica. Pedretti dà la parola a un partigiano che ci racconta perché è andato in montagna, ma giudicate voi. E' una poesia che in originale, in dialetto di Sant'Arcangelo di Romagna, io la leggo in una traduzione italiana, si titola I Partigiani e fa così. Non è stato per via della gloria che siamo andati in montagna a fare la guerra. Di guerra eravamo stanchi, di patria anche. Avevamo bisogno di dire, lasciateci le mani libere, i piedi, gli occhi, le orecchie. Lasciateci dormire nel fienile con una ragazza. Per questo abbiamo sparato, ci siamo fatti impiccare, ci siamo andati al macello col cuore che piangeva, con le labbra che tremavano. Ma anche così sapevamo che di fronte a un boia ed un fascista noi eravamo persone e loro marionette. E adesso che siamo morti non rompeteci i coglioni con le cerimonie. Pensate piuttosto ai vivi, che non debbano perdere anche loro la giovinezza. Grazie a tutti.